Se non è morto dopo 10 minuti che è entrata al pronto soccorso, se la diagnosi fosse stata corretta, lui si poteva salvare. Morì tre anni fa dopo ben 12 ore di permanenza al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo. Adesso il GIP Pier Giorgio Ponticelli ha respinto la richiesta di archiviazione e riaperto le indagini che dovranno concludersi entro quattro mesi. La vicenda riguarda un assicuratore a retino di 42 anni, Adriano Moretti, che morì il 7 luglio 2014. Accusava dei forti dolori al petto, fu portato al pronto soccorso, furono fatte le analisi per accertare se si trattava di infarto, ma queste analisi erano negative e quindi questi esami erano negativi, non era un infarto. Nessuno della USL ha avuto in mente, ha avuto l'idea che si trattasse di qualcos'altro e che quindi andavano accertate e escluse altre ipotesi più gravi dell'infarto. Adriano Moretti dopo 12 ore trascorso al pronto soccorso fu stroncato dalla rottura della orta. Non è stata fatta un'attacca, perché questo è sorprendente a nostro avviso, anzi è un grandissimo errore. È stato fatto un ecocuore dal quale non hanno visto il buco che c'era nella orta. A questo punto da questo foro fuoriusciva il sangue che ha coperto il cuore, il cuore ha smesso di battere. Il giudice adesso ha accolto la richiesta di una controperizia presentata dalla famiglia, ritenendolo non imparziale la prima che era stata eseguita ed ordinando al pubblico ministero nuove indagini per individuare se vi furono responsabilità. La perizia sarà fatta come deve essere fatta. Cosa chiedono? Cosa chiedono? Chiedono giustizia.